le due squadre in campo quest'oggi di sicuro affrontano la partita con obiettivi molto diversi sono sicuro però che ci sarà comunque spettacolo bel passaggio e buona opportunità per loro Rossi, azione fermata dalla difesa avversaria provo ad andare a cacà, brutto fallo e il regista della squadra deve avere la palla in questo momento Poli pazzesco non siamo nemmeno a metà partita e il Milan si trova in vantaggio sono stati abilissimi ad aprire un barco nella difesa avversaria sfruttando al meglio il calcio piazzato salviato nulla da fare, possono ripartire gli avversari la squadra sposta il baricentro all'indietro il contrasto è stato duro ma per l'arbitro è tutto regolare concesso il vantaggio intervento giudicato irregolare da parte dell'arbitro da questa posizione potrebbero anche segnare che parata con la punta delle dita pallone messo fuori aria buono il servizio e Sien si gioca palla recuperata dalla difesa Rossi riesce a passare con intelligenza Balotelli intercetta gol che in rete gli avversari sono con il morale sotto i tacchi hanno buttato via il loro vantaggio tutto da rifare e con questo gol si toglie davvero un grosso peso dallo stomaco e non ce la fa non ce la fa proprio rimanere in campo sapata e Sien cerca uno spazio Kakà palla riconquistata dalla difesa questo potrebbe essere un episodio decisivo ecco il traversone pallone perso sulla fascia si riprenderà con una rimessa laterale Rossi palla al piede Kakà Balotelli sposta il gioco sulla fascia funziona bene lo schema difensivo ruba palla sulla fascia Balotelli palla recuperata sulla fascia laterale ottimo intervento da parte del difensore l'arbitro concede il vantaggio deviazione del portiere con la punta delle dita Rossi bel passaggio in avanti grande coraggio da parte del difensore la indirizza nell'area avversaria il portiere ha battuto la rimessa la difesa riconquista la palla avanzano un passaggio dopo l'altro e non riesce a superare il difensore Balotelli prova ad andare Kakà palla recuperata dalla difesa l'arbitro manda tutti a prendere un teccaldo 1-1 il risultato alla fine del primo tempo partita equilibrata e divertente una delle due formazioni mi è sembrata molto più in partita degli avversari una ripresa che ricalcherà le ombre del primo tempo è quello che scopriremo presto Balotelli Kakà marcature strette difensori attenti niente da fare per gli avversari Salviato ottimo il servizio per l'attaccante grande intervento difensivo può allargare subito a sinistra capisce tutto intercetta la sfera cerca uno spazio Kakà Poli Salviato intercettato palla al piede Kakà vantaggio e interviene bene il difensore la difesa rilancia Balotelli e l'arbitro concede un calcio di punizione quando si hanno opportunità del genere non bisogna lasciarseli sfuggire c'era una sostituzione la seconda tiro intercettato dal difensore guadagnano dunque un calcio d'angolo gol palla alle spalle del portiere un gol di gran classe hanno dimostrato una grande determinazione ora devono restare concentrati il pallone viene intercettato tiro che finisce lontanissimo dallo specchio della porta troppa pressione su di lui ha cercato di inserirsi ma ha calciato alla cieca Poli Balotelli tiro potente ma veramente mal calibrato stavolta non è riuscito a trovare la porta se avessero concretizzato questa occasione la partita sarebbe stata virtualmente chiusa con una maggiore precisione avrebbero anche potuto chiudere qui la partita Poli Cacca e Sien rinviene avanti intervento giudicato falloso ma non da ammunizione grande stacco di testa intervento da dietro ma l'arbitro non estrae il cartellino riconquista la palla con un ottimo anticipo il via pischio dell'arbitro che segna un calcio di punizione calcio di punizione da una posizione molto pericolosa il tiro c'entra in pieno il difensore cambiano continuamente di posizione non dando punti di riferimento agli avversari Poli l'arbitro interrompe il gioco posizione regolare i difessori mantengono il sangue freddo palla al piede Cacca fallo e la calcio a lontano bel colpo di testa ottimo intervento si guarda attorno per cercare un compagno libero spazza la palla lontano sforzini i difessori non si lasciano passare Balotelli appoggia il pallone nella sua area di rigore pallone calciato lungo in avanti cerca uno spazio Cacca soltanto un minuto da recuperare è finita due a uno il risultato al termine di una gara molto combattuta e mancano poche cruciali partite alla fine della stagione ciao a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Charesse e Beppe Bergo mi appresso Grazie a tutti.